Manuel Mascolo, Davide Zotti, viva Radio Jolly! Vediamo se riusciamo a far ridere Miss. Viva! C'è stato un mezzo sorriso ragazzi, eh! Questa è la numero quattordici, eh! La numero... la numero otto! Vediamo Erika, eh! Ragazzi ci guardano, ragazzi, è fatta! Vediamo Deborah, vediamo Deborah! La sorella di Benito, guarda! Non ci ha cagato proprio! La numero 16 bis! Questa fa Battipaglia, Ponte Cagnano, arriva fino alla stazione, il 16 bis! Vediamo se ci saluta, eh! Ragazzi, ci ha guardato, eh! Ragazzi, è Facebook, ragazzi! Ha pianto troppo insieme a me, riderà, riderà, riderà!